Ma che bella la musica che vi proponiamo qua su Casa Capano tutte le domeniche e a partire da questa saranno veramente un susseguirsi di puntate di musica, di divertimento, di allegria che vi regaliamo alle 20.30, quindi spargete un po' la voce andate, andate, andate perché ci siamo noi che vi aspettiamo la domenica, vero? Io e Rosetta, io e Rosetta, io e Rosetta, anche Mimmo, anche Kikko Ma perché? Mimmo, noi andiamo in onda tutte le domeniche alle ore? 20.30 Sul canale? Dillo un po' più lentamente, così a meno, no, dimmi, 178 più lentamente, studio live così a meno la gente da casa può capire meglio Capire meglio e so che comunque i tuoi trattini di punteggiatura, il tuo savoir faire Non mi ricordo tutte queste parole Allora, vai, vai, lentamente Canale? Allora, canale lentamente, studio live, 178 alle 20.30, mi raccomando Si è andato proprio veloce, veloce Vabbè, dai Dai, va bene, vi aspettiamo, quindi qua noi siamo pronti a tenervi compagnia tutte le domeniche quindi spargete la voce, da domenica prossima invece ci sarà anche alle ore 14 un bel contenitore nuovo, una programmazione nuova la nostra domenica, vi raccontiamo cosa facciamo di domenica e vi faremo passare un bel pomeriggio in allegria Poi la sera noi ci cambiamo, spostiamo studio, ritorniamo qui in centro via Stenvenzani in Valle d'Ossa dove si respira l'aria buona e dove potete venirci a trovare perché siamo Sì, infatti Sì, qui passano, ci vedono, ci salutano, noi lo facciamo di tutto e noi siamo qua con Chicco, Rosetta e Mimmo Mimmo E Stefano Soprattutto Stefano Allora, cosa andiamo ad ascoltare? No, io farei una cosa Spostiamo, se la nostra regia è d'accordo Io mi sposterei con lo studio e andiamo Chicco vai, inizia ad allontanarti perché andiamo con un bel bel brano dalla Fiusarmonica, del nostro maestro Chicco Cosa ascoltiamo? Tutto pepe Mettiamo un po' di pepe Per voi Mettiamo un po' di pepe 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 Bello bello, sì Molto molto bella la musica che vi proponiamo tutte le domeniche qui su Casa Capano però arrivano tanti messaggi al 327-666-8220 I messaggi Whatsapp è che noi mandiamo la prossima domenica Tutte le richieste, le ricordiamo sempre così almeno il nostro pubblico si abitua Noi le mandiamo la prossima domenica Ok, non per qualcosa ma meno riusciamo siamo qui in diretta a tenervi compagnia tutta la salata Però per questioni logistiche riusciamo a gestire meglio la situazione a trovare le musiche giuste perché comunque all'ultimo correre e trovare la canzone giusta diventa difficile per noi Quindi abbiamo voluto un po' dedicare più tempo a voi nelle chiacchiere e nel ridere Abbiamo bisogno veramente di ridere, voi ci fate ridere e ci fate sentire il vostro calore Bene, però arrivano i messaggi Chico, c'è qualcosa? Allora, la signora Assunta ci saluta, però in particolar modo saluta a te Wow, la conosco? Ci siamo visti da qualche parte? Secondo me no, perché è di Torino, ma può darsi Può essere, può essere Può darsi, può darsi, sì Bene, Mimmo? Invece, signor Giovanni e Maria da Rimini Non stai leggendo Rosario Ecco Non stai leggendo Rosario Non stai facendo, predicando, cioè leggendo qualcosa Vai un po', mettiti un po' di più di Ecco, qui c'è scritto metti un po' più Di pepe Di pepe, di colore Mettete un po' di colore Allora, mi hanno chiesto, ci avete chiesto di mettere un po' più di colore La prossima volta, oggi siamo bianco e nero e le senza colore Ecco, ci hanno detto Siete troppo scuri Siamo scuri Guarda, ho preparato qualcosa per voi Io voglio accontentare Guarda, una la metto qua Una qua Perché questa Guarda, intanto sistemate Guarda, ho portato anche per voi Perché mi hanno, c'è scritto Mettetemi un po' di colore E io quindi ho detto Va bene, metto un po' di colore Porto un po' di colore subito Durante questa canzone sono andato a prendere un po' di colore Per regalarlo a tutti voi Guardate, guardate qua Guarda, guarda Mettete colore Vai, intanto facciamo partire la musica Vai, vai Guarda, guardate qua Grazie a tutti.